700 partecipanti per la decima edizione di Strade di Cioccolato, l'appuntamento nel centro storico di Sondalo organizzato dall'Associazione Lisemenza. Il percorso prevedeva diversi punti di degustazione a partire dalla prima tappa al bui redonte simbolo di Sondalo che offriva il benvenuto ai partecipanti con la cioccolata bianca. La seconda tappa, collocata alla chiesa di Santa Marta, prevedeva la cioccolata al latte con biscotti a seguire la postazione con i grissini immersi nel cioccolato alla Cadella Piera, poi la cioccolata fondente con i bignè preparati dal PFP Valtellina serviti in un'antica corte trasformata per l'occasione nella tana del Grinch e per concludere l'ultima tappa con i ciocodolci in piazza della Repubblica. Lungo il percorso non sono mancati tanti momenti di intrattenimento per grandi e piccini come il laboratorio a cura del Ciag Sondalo, il concerto di banda insieme Sondalo, del coro Cime di Redasco, le fisarmoniche di Bepi Alberto, la mostra di acquerelli e delle sculture di legno con Iosè. A impreziosire le tappe i partecipanti hanno potuto ammirare anche l'esposizione dei lavoretti a tema natalizio realizzati da bambini dell'istituto comprensivo di Grosio, Grosotto e Sondalo e il presepe curato dalla scuola dell'infanzia.